Buongiorno 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, esta vez estamos en Suecia, en Estocolmo grande una vuelta por la parte de abajo de la ciudad, podemos decir stiamo, una sorpresa per me, io non conosco a Cecia e in questo momento stiamo caminando tranquillamente afuera c'è un po' di frio, c'è un po' fresca la città, e stiamo... Tiene tutto un sistema interraneo dove tutti i negozi sono interconectati e dove la gente, tutti stanno gestionando, e ci sono tiendali di roba, tiendali di electrodomestiche anche ci sono tiendali di roba, c'è un po' di lavoro dove i bambini si possono divertire e i bambini si possono fare la compagnia, ora ci siamo in una tienda di roba e vediamo che ci sono nella tienda di roba Grazie a tutti. 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 a tutti.